Il Comune di Calatabbiano ha organizzato una giornata di pulizia straordinaria del proprio cimitero comunale che avrà luogo durante la mattinata di domani, a partire dalle ore 7.30. Sono chiamati a prendere parte, come volontari all'iniziativa, tutti i calatabbianesi per quello che è stato definito dal primo cittadino Giuseppe Intelisano un momento di collaborazione tra le parti, nell'ottica del miglioramento costante del decoro del Camposanto. Non c'è dubbio che il cimitero rappresenta un luogo dove tutto si ferma e la gente ha necessità di andare a visitare i propri defundi nel modo più coerente possibile. Quindi dalla sensibilità dell'amministrazione, da me retta, dal vice sindaco litemiano e dall'assessore Emanuele Frank e da tutte le componenti dell'Aggiunta e il Consiglio Comunale nella sua interezza hanno manifestato la necessità di intervenire e a pulire il cimitero in maniera importante. Si tratta di un intervento che chiaramente varrà riproposto. Anche qui cercando di raggiungere due obiettivi, da un lato avere un cimitero pulito e dall'altro cercare di contrare al massimo quelle che sono le risorse di natura economica. Perché voglio dire che negli anni passati si spendevano soldi in misura piuttosto cospicua, magari con risultati non proprio brillanti. Quindi noi partiamo in questo modo e con l'avvenuta approvazione del bilancio cerchiamo poi di pianificare un intervento ogni mese e mezzo come si è fatto prima cercando, ribadisco, di dare dignità a un luogo così importante.